Una rappresentanza degli 80 lavoratrici della cooperativa Nida d'Argento ha inscenato un sit-in davanti al comune. La protesta nasce dalla comunicazione ricevuta dai responsabili della cooperativa, che avvisa le dipendenti che a causa di alcune irregolarità del DURC, il 30 giugno sarebbe stato il loro ultimo giorno di lavoro. Il problema della mancanza di lavoro, di portare un minimo di stipendio, poco, però c'è. Per cui adesso si spera nel reddito di cittadinanza e tutti vanno incontro a questo reddito. E chi vuole lavorare, naturalmente viene tolto il lavoro, la dignità. E quello che viene tolto è la dignità. Per cui da domani è il nostro ultimo giorno di lavoro e dal primo di luglio saremo nelle mani del Signore. Questo problema è dovuto a una burocrazia interna del comune? Sì, è vero, perché il DURC con l'IMSS, che è il lavoro in cui noi dipendiamo, non hanno dei piccoli riscontri di cifre, di codici, in cui non li accetta. Per cui abbiamo perso sia il lavoro che facevamo, che quello a venire, perdendo un bando di lavoro triennale. Tre anni di lavoro che non ci porterà a buon fine. Il problema pare essere scaturito da un'anomalia del documento che attesta il regolare versamento dei contributi providenziali IMSI, Nail e Cassa Idile. Uno stop improvviso che costringerà le operatrici a perdere il lavoro per i prossimi tre anni. Ad ascoltare le loro rivendicazioni è stato il Vice Sindaco Terenziano Di Stefano. Dopo l'incontro di ieri, quali sono le risposte che possiamo dare a questi 80 lavoratrici? Sì, ieri l'amministrazione comunale ha ricevuto le lavoratrici della cooperativa. Abbiamo fatto un giro di verifiche sia con il Sindaco che con l'assessore Gnoffo. Confermiamo che c'è questa intesa con il Comune di Bronte per la prosecuzione delle attività lavorative di queste persone. Ovviamente tengo a precisare che la Regione fa partire gli avvisi il primo di luglio per poter far ripartire il servizio i primi di settembre. Per quanto riguarda invece i pagamenti, come è noto abbiamo avuto dei problemi con l'Inps per l'emissione del DURC. Anche lì l'avvocato incaricato dal Comune di Gela sta preparando tutta la procedura per fare un ricorso al giudice del lavoro e cercare nell'arco di 10-15 giorni di ottenere questa documentazione che di fatto andrà a sbloccare le risorse per la cooperativa e quindi per i lavoratori.